Sono stati attimi di tensione conclusisi solo all'alba di questa mattina con il ricovero all'ospedale di Sant'Arsenio presso il reparto di psichiatria di un giovane operaio edile di 26 anni. L'uomo di origini calabresi ma residente nella cittadina valdianese con la moglie originaria della zona e la figlioletta di poco meno di un anno, intorno alle 20 di domenica sera ha cominciato a dare i primi segni di squilibrio, tanto che la compagna ha dapprima allontanato la figlia dalla loro abitazione di Sant'Arsenio e di lì a poco è uscita a sua volta di casa chiamando i soccorsi. Il 26enne era in preda ad un forte stato di agitazione, a deliri e allucinazioni e alla vista dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina si è asserraiato in casa con un macete, un coltello e due accette minacciando di uccidersi. I carabinieri assieme ai vigili del fuoco di Sala Consilina hanno messo in sicurezza tutta l'aria intorno all'abitazione. Per calmare l'uomo è stato poi necessario l'intervento di un mediatore, un militare specializzato dell'arma che è giunto a Sant'Arsenio dopo qualche ora ha parlato a lungo con il 26enne cercando di farlo desistere dal suo intento. Ma in vano la trattativa è andata avanti fino oltre alle 2.30. Poi è cominciata la lunga attesa dei carabinieri con l'obiettivo di prendere il 26enne senza che facesse del male a se stessi o ad altri. Alle 5.30 è stato dato il via al blitz. I militari con caschi e giubbotti antiproiettili hanno fatto irruzione nell'abitazione trovando il 26enne ancora vigile e con in mano un coltello lungo 10 centimetri. Sono riuscite a disarmarlo senza conseguenze per nessuno, poi hanno consegnato l'uomo ai sanitari dell'Humanitas. Il giovane operaio che aveva problemi psichici ma non aveva mai avuto una crisi di tale entità è stato ricoverato per un TSO, mentre le armi bianche che aveva in casa sono state poste sotto sequestro.